papapaparabà le news dal frigorifero questa settimana le news dal frigorifero del fotografo analogico ferrania p30 pellicola bianco e nero cinematografica derivata dalla mitica pellicola utilizzata per i grandi film del neorealismo italiano è stata utilizzata da grandi registi come fellini pasolini rossellini ed essica quella contrastata ma dalla grana finissima quasi inesistente questa in particolare la versione da 80 asa ma da pochissimo uscita la p33 a 160 asa più facile da utilizzare che io a breve proverò pellicola con molto carattere che va però assolutamente provata almeno una volta in questa pellicola sono stati girati film come roma città aperta ladri di biciclette shusha è il mio preferito in assoluto ovvero